Buonasera, buonasera a lei. Buonasera, buonasera. No, io sono il procuratore. Ah, io il procuratore, esatto, buonasera. Nico Stark, piacere di conoscerla. Molto piacere, molto piacere, santo coppola. Le faccio le mie più sentite condoglianze innanzitutto, e sono veramente dispiaciuto per quello che è successo. Posso invitarla all'interno? Assolutamente sì. Grazie, grazie. Buonasera signori. Chiedo scusa, possiamo perquisirla? È un mio ospite, è un mio ospite. Ok, un attimo solo. Eh, ecco. Mi scusi, signor Coppola, la perquisizione purtroppo è un atto dovuto, perché... No, 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 ma chi sta scherzando, non si preoccupi. Prego, prego, venga, venga. Gradisce qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. Le accetto qualcosa da mangiare. Assolutamente. Allora, mi dico un attimo che li vado a recuperare. Vado io, vado io, vado. Ah, perfetto. Vediamo se ho qualcosa... No, vabbè, adesso arriva l'avvocato con le scorte. Grazie, grazie. Allora, signor Coppola, le ha spiegato un po' l'avvocato perché... Avevo piacere di incontrarla. Sì, 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 sì. Perfetto. Come la posso aiutare, signor Coppola? Signor Coppola, noi vogliamo aiutare lei, perché so che il dottor Alvejak era un fratello. Eh, sì. Eh, lo so, lo so. Lo so, lo so. Lo so, posso immaginare. Quindi noi vorremmo aiutarla e vorremmo... Merino, mi scusi, signor Coppola. 83, grazie. E vorremmo di conseguenza che lei ci aiutasse, perché vorremmo prendere le persone che hanno fatto del male e che hanno purtroppo stroncato la vita del signor Alvejak. Guardi, se le... Scusi, va. Prego, prego, faccia, faccia. Eccomi, scusi. Allora, dicevo, se lei mi dice questo, io non posso che essere felice. Eh, onestamente, è la cosa che voglio più di tutto, è che venga fatta giustizia per ciò che è successo. Eh, anche noi lo vogliamo, eh, avremmo piacere di collaborare con lei, qualora lei avesse delle informazioni utili che ci potessero portare alle persone che hanno fatto questo gesto ignobile. Eh, signor procurato, non lo so, magari vogliamo fare una chiacchierata in separata sede, con la presenza anche dell'avvocato, no? Che dice? Quando vuole, signor Coppola? No, no, anche subito, dico, non lo so se è questo il punto giusto dove parlare di questioni così delicate, ecco. Signor Coppola, qui è casa mia, ma adesso è anche casa sua. Se vuole andiamo nel mio ufficio e ci facciamo una chiacchierata lì. Guardi, mi sento più a mio agio, va, ma vorrei comunque che ci fosse anche l'avvocato, mi sembra giusto. Ma come no, anzi, assolutamente, l'avvocato qua è di famiglia, quindi non c'è nessun problema. Seguitemi, prego. Lo seguo. Mi scusi, eh, non volevo sbatterle la porta in faccia, ma sono porte... No, non si preoccupi, non si preoccupi. Prego. Accomodatevi. Grazie per l'ufficio. Grazie, grazie caro, grazie. Gli architetti, devo dire la verità, qui in America sono veramente in gamba. Ah sì, eh sì, è vero, è vero. Allora, fate come se fosse a casa vostra. Grazie, grazie. Grazie. Se non le dispiace puoi alzare un beletto le corde. Assolutamente sì. Grazie. Eccomi qua, scusate, mi sono seduto nel punto sbagliato, però... Non si preoccupi, non si preoccupi. Tanto il problema è il mio, giusto? Esatto, esatto, con quello dell'ausa... Appunto. E allora, dicevamo... Ecco perché mi siedo sempre sul divano, però va bene così. Allora, caro... Procuratore? Sono nel mio ufficio, ragazzi. O K. Prego, prego, mi scusi l'interruzione, eh. Oh, eh... Signor procuratore, mi dica lei, insomma... Sto in piedi perché fosse qualche problema di... Eh, mi sa che tra un po' mi alzo pure io, perché sono le morroidi, fanno male. Ma dai, magari ci mettiamo qua, guarda, in queste belle poltrone. Ma di che belle poltrone... Facciamo così, sì, è meglio le poltrone, va. Ah, la poltroncina, ci mettiamo qua. Ah, perfetto. Vi dispiace se io aspetto in piedi, non si sa mai... No, no, assolutamente, aspetto anche io in piedi, allora. Grazie, grazie. Grazie, grazie. E allora, signor procuratore, mi dica. Caro, niente. Io le ho detto essenzialmente quello che vorrei avere da lei. Delle informazioni utili per beccare queste persone. Allora, signor procuratore, io sarei lieto di aiutarla, assolutamente. Sì. Quindi, insomma, però, come, insomma, pensare, penso che l'avvocato le aveva già parlato della situazione dei miei nipoti che sono venuti, insomma, con me dalle vali e stanno avendo qualche piccolo problema con la legge, quindi pensavo magari se... Signor Zoc, ma tutti ha... Ma guardi, io ho già dato massima disponibilità ai suoi nipoti. Esatto. Cioè, eventualmente si può essere un pochino più morbidi qualora io dovesse aiutarvi. Ha già mostrato apertura. Io ho già mostrato apertura. Procuratore, lei, aspetta, insomma, mi capisca. Io non le sto dicendo che devono passare impuniti i signori, perché i reati li hanno fatti ed è giusto che paghino. Certo. Però io mi auguro che, insomma, la condanna non sia l'ergastolo, ecco. Signor Coppola, allora, io, come c'era anche l'avvocato, ripeto quello che ho detto essenzialmente ai suoi nipoti, che l'ergastolo non darebbe a loro la possibilità di vendicarsi. Esatto. La mia preoccupazione sarà quella di non far avere l'ergastolo loro se ci veniamo incontro. Le dico con franchezza che un po' mi preoccupa questa cosa perché pensavo che al primo posto ci fosse magari la voglia di vendicare suo fratello, però capisco anche che sono suoi nipoti. Non lo senza dubbio, però, insomma, capisca che già ho perso una persona molto importante e perderne delle altre in questo momento per me significherebbe che proprio mi faccio i bagagli e me ne torno in Italia. Assolutamente, noi non vogliamo questo. Noi stiamo facendo un lavoro importante in questa città ed è quello di recuperare le persone per far sì che possano vivere una vita dignitosa insieme ai loro affetti. Grazie Giovanni, grazie per il like caro, grazie mille. Buongioratore, io insomma, per informazioni parlando diciamo che sicuramente qualcosa la so perché, insomma, ero a stretto contatto con la signora Alvec, non le dico che le posso dire vita, morte e miracolo perché chiaramente ognuno ha la sua privacy, poi non è che ero mozziti, capisci? Lo capisco benissimo. Però diciamo che so parecchio, so parecchio e quello che le posso dire, signore, che avevo ultimamente a che fare, signora Alvec, lo sentivo sempre a telefono, sempre parlare con un signore russo, sempre parlava, continuamente. Sì, un certo signore russo, proveniva dalla Russia questo qua. Perfetto, sa il suo nome? Il suo nome è Darko, Darko lo chiamava sempre Darko. Darko, ci faceva faccia di minchia, Darko, lo insuttava sempre, si insuttavano sempre per telefono, sempre, ultimamente diciamo che cazzavano anche parecchi toni. Quindi c'erano attriti abbastanza importanti. Minchia, ma non indifferenti devo dire, anche io ho anche chiesto, mi sono informato, ho detto Alvec, ma che succede? Ma tutto a posto se signor Darko, sempre quello nomine, lo nomine, di qua, io, madre russa, vodka, hai atto, soggio, e poi, giustamente io, insomma, un po' preoccupato, io ho chiesto, e lui mi ha detto, dice, devi stare tranquillo, sanno, dice tutto a posto, con il signore Darko. Diciamo che il signor Alvec la voleva tutelare a questo punto, non voleva che si ficcasse anche lì. Io presumo di sì, perché l'ultima volta che l'ho visto, prima di sapere della sua scomparsa, era arrivata una delle solite chiamate da questo signor Darko, Darko, non il cognome, non lo cocci, non lo sa, c'è qualche cosa, Darko, comunque è il nome, Darko, questa è la sicurezza che le posso dare. È un nome particolare, quindi penso non ci saranno problemi a rintracciare anche il suo cognome. Esatto, ma non penso che, non penso che deve essere, ecco, quindi l'ultima volta che l'ho sentito, insomma, prima di sapere della sua scomparsa, ahimè, parlava sempre questo signor Darko, e la discussione, diciamo, era anche un pochino più accesa del solito. Perfetto, però signor Santo, mi permetta, questa a questo punto è un'ipotesi. Chiaramente io non è che le sto dicendo che è stato il signor Darko, io le sto dicendo che ultimamente, se Alveac aveva degli attriti prima della sua scomparsa, sicuramente sono stati con questo signor Darko. Perfetto. Le posso dare, insomma, qualche altra informazione, se a lei non... Sì, caro, perché lei capisce che io con delle ipotesi, con tutta la buona volontà... No, 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 è chiaro. Io quello che le posso dire con certezza è che una volta il signor Alveac ebbe un incontro con questo signor Darko. Sì. E da questo incontro, insomma, io quando lo chiamai non prendevo il telefono, non prendevo, non prendevo, fino a quando, a un certo punto, dice, non mi ha chiamato lui dopo un'oretta, così, un'oretta e mezza. Signor Santo, mi scusi se la interrompo, mi scusi se la interrompo. Siamo solo noi qua. Sì. Qui c'è l'avvocato. Non ci sono poliziotti, non ci sono radio, telecamere... Sì, 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 no, assolutamente. Una domanda, lei ha mai partecipato a questi incontri? No, e questo le stavo dicendo io, proprio questo. Ah, no, mi scusi, mi scusi. No, mi ha interrotto troppo bene, le stavo dicendo questo. Cioè, lui mi chiama a un certo punto, dopo un'oretta e mezza che io lo volevo contattare, e chi faccio? Ma dove minchè che sei stato? Pia mi dice qua, mi hanno portato, dice qua, mi sono svegliato su un posto che mi sta sembrando, dice, un'isola tropicale, cose. Sono sceso da un aereo qua su un'isola tropicale, mi parlava, dice, di uccelli esotici, stumme con occhio, insomma, un po' di varietà c'era, dice, in questo posto. Dice, che era un'isola che si chiama Caio Pegoro. Io non so se lei... E allora, a questo punto, insomma, un giorno mi è capito, a questo giorno qui, insomma, io, allertato dalla cosa, e ho detto, senti, ma che devo fare? Ti devo venire a prendere. Caio Pegoro. Com'è? Caio Pegoro. Io Pegoro, sapevo, Caio Pegoro. Caio Pegoro. Perico. È un'isola che si chiama. Però, come mi piace di... Però, Pecoro, com'è che si chiama Pe... Caio Pegoro, io sapevo, qua mi dice l'avvocato Perico, io sapevo Caio Pegoro. Da oggi per me sarà Pecoro, è più carico. Caio Pegoro. Esatto. Io così la sapevo, ma poi se è Caio Pegoro... No, no, va bene come ha detto lì, mi piace di più. Caio Pegoro. Sì, sì, sì. E perciò, insomma, lui mi ha detto, dice, che fa, mi viene... Gli ha detto, che devo fare? Ti devo venire a prendere? Ti devo lasciare là? Dice, io non lo so dove mi trovo. Dice, c'è un gattello qua davanti, benvenuto, dice, Caio Pegoro. Insomma, io mi sono mobilitato un pochino per capire la situazione, però quando sono arrivato lì su questa... Su questa isola, veramente, insomma, non ho trovato nessuno. E se vuole, le posso dare anche le coordinate per arrivacci, eh? Non so se poi ne si dà conoscenza, cose... Guardi, questo magari lo possiamo affrontare in un secondo momento. Sa che stavo pensando, signor Coppola, che tempo fa il nostro caro sindaco, che è una persona rispettabilissima, che lavora per la città quotidianamente... Il sindaco Ston, eh? Esattamente. No, una grande persona. Fu rapito da un certo Darko Kocic. Bravo, Kocic era il cognome, bravissimo, bravissimo. Ha visto che il cognome l'abbiamo trovato. Bravi, bravo, allora lo conoscevo già. Sì, mi è venuto in mente adesso, mentre stavo riflettendo... Allora, dice, non è la prima volta che ho sottato con Kocic, Kocic, insomma, fate queste cose. Eh sì, sì, no, infatti, adesso mi è tutto più chiaro. Ascolti, signor Santo. Sì. Io ho bisogno però di qualcosa di più. Perché io come posso prendere il signor Kocic con una ipotesi? No, no, cioè, no, ma allora io... Io purtroppo, procuratore, io nemmeno io stesso lo so. Io purtroppo non lo so com'è andato. Io l'unica cosa che so è stata che ho visto il corpo del signor Abbe con un buco al centro di testa, che non so. Cioè, sono sicuro che sia molto sparato da un'arma da fuoco e questo non ci piove. Ma il problema è capire chi ha premuto il grilletto. O per ordine di chi è stato premuto questo grilletto. Quindi, io... Sto cercando di aiutarla come posso, mi deve credere perché... No, 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 lo capisco. Lo capisco perché ovviamente ha lo stesso interesse che ho io. Anzi, il suo magari comprende anche il lato affettivo, quindi... E anche può essere anche maggiore del mio. Secondo lei non farei di tutto per... No, però io sto cercando di magari stimolarla a ricordare qualcosa che può essere d'aiuto e può essere utile. Che può essere d'aiuto... Magari se c'erano degli affari che sono andati male... No, qualche cosa effettivamente io gliela posso dare, qualche cosa che fosse d'aiuto. Una posizione, direttore. E io aiuterò i suoi nipoti. E io aiuterò i suoi nipoti. Assolutamente, io sto cercando di fare il possibile procuratore, mi deve credere. E allora... Procuratore, io insomma, mi è capitato una volta... Scusi un secondo, eh. Faccia, faccia. Mi sono al telefono, fatta il ritmo. Rita, ricordati tu perché io non me ne ricordo. Mi è capitato una volta che stavamo organizzando un incontro con Alviac, ci dovevamo vedere, insomma, per organizzare una festa, una cosa del genere. E dice, andiamoci a fare una passeggiata, mi ha detto Alviac. No, no, ci siamo andati a fare una passeggiata. E niente, siamo arrivati in una zona dove effettivamente si stava tenendo un incontro abbastanza losco. A che io gli ho detto, Alviac, ascoltami, io mi tengo in dispattica di queste cose, non ne voglio sapere niente. Ti aspetto in macchina, giusto? Sì. E questo incontro qua è stato fatto praticamente dove c'è il faro, giusto? Il faro, ora, dovrebbe, se non mi sbaglio, il faro è verso il 3001, di fronte al 3001. 3001. Più o meno, lì, mi pare, se non mi sbaglio, c'è il faro. Giusto? Ho il pondile, qualche minchia... Mi faccia controllare. Eh. Il Ciliad, sul Ciliad, praticamente, sulla montagna Ciliad. Di fronte a mare. Ok, perfetto, c'è un faro lì, perfetto. Esattamente, eccolo là, eccolo là. Io una volta, insomma, sono andato lì e praticamente a questo incontro c'erano elicotteri, insomma, io mi sono tenuto in macchina, non so effettivamente di cosa si parlava. Quello che so è che effettivamente, quando poi è ritornato in macchina il signor Avviac, insomma, mi è venuto a riprendermi, mi doveva accompagnare, ecco. Avevo un bossone che faceva odore, insomma, un odore abbastanza intenso di... È chiaro, è chiaro. Ah, ha capito, quindi sicuramente lì avrà avuto un incontro riguardante la vendita di stupefacente, non lo so questo io. Questi incontri avvenivano quindi in diverse zone della città? Guardi, io purtroppo non glielo so dire se hai detto due zone diverse, quindi... Come? Mi parlava prima di un'altra zona, Pecoro, adesso non mi sfugge. No, chi c'entra? Caio Pecoro? Io glielo sto dicendo come il zona di... quando, insomma, c'era stato l'incontro e lui mi aveva detto, dice, sono stato rapito, mi hanno portato qua, di... Quello, in un'altra zona, sto parlando di un altro discorso. Io ti parlo di... Sì, sì, no, dico, a questo punto, se stiamo pensando che l'artefici di tutto sia il signor Darko Kocic, gli incontri, il rapimento, questi incontri sono avvenuti in due zone diverse, presumo che loro molto astutamente non diano mai... Sì, è molto probabile. Ah, e tra l'altro, insomma, un altro indirizzo che io le volevo segnalare è la Fuente Bianca. Io non so se lei lo conosce, la Fuente Bianca. Sì, vicino al latte. Sì, vicino al processo del latte. La Fuente Bianca è una residenza, una reggia che, quando ho capito, apparteneva, appartiene, appartieneva, non lo so se ancora ci vive, a signor Darko, e lo so per certo perché lì è stata purtroppo, come si dice, eseguita una mutilazione a una persona che conosco abbastanza e che mi ha detto che è stato mutilato lì da signor Darko Kocic alla Fuente Bianca. Un'atrocità, un'atrocità, insomma, è una cosa... Non capisco, cioè, ma di che cazzo sono queste cose? Un criminale pazzesco, un criminale pazzesco. Quindi una tortura con una mutilazione. Eh sì, mi ha detto che è stata fatta la dottora alla Fuente Bianca. Signor Santo, per caso lì ha visto l'abbigliamento del signor Darko come si veste, se ha un braccio destro, se ha una... Io onestamente non l'ho mai visto, io ripeto, mi sono sempre tenuto a distanza, non ne voglio sapere, io sono un lavoratore onesto, ma adesso non lo metto in dubbio. E sono un locale, in città, quindi io non... Queste cose io cerco sempre di tenermene alla larga. Non lo metto in dubbio, signor Coppola, però come le dicevo prima, magari un'occhiata di sfuggita le sovviene il ricordo e... Infatti, le posso dire sicuramente che nei gruppi che ho visto il colore prevalente era il rosso. Il rosso, il rosso. Il rosso, sì. Insomma, vedevo molti abiti di rosso, però, ripeto, niente di... Non la prendo, insomma, come un'informazione scetta. No, 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 no. Per carità, è un'informazione, quindi magari si può attenzionare, poi questo lo deciderà chi di dovere, se approfondire. Signor Santo, ha qualcos'altro da dirmi? Procuratore, non lo so, mi vuole fare qualche altra domanda a lei? Io penso, insomma, di non avere purtroppo... Mi dispiace, insomma, ma... Al momento non penso di avere altre informazioni, però se lei vuole, insomma, io tramite l'avvocato, qualora dovesse venire in mente qualcosa, io lo contatto immediatamente e lo faccio comunicare subito. Le mie domande sono tante, però capisco... No, capisco benissimo che se lei, diciamo, si è sempre tenuto fuori, alcune risposte non potrà darnele. No, procuratore, di certe cose a me non mi interessa, io sono tranquillo là in locale, faccio qualche evento, tra l'altro il locale mi era anche stato bruciato un po' di giorni fa, guardi, non mi dica niente, facciamo bene. Ah, mi dispiace, mi dispiace. Puttana della miseria. Guardi, una domanda semplice, penso che mi potrà rispondere. Questo signor Darko Kocic, che ruolo ha in città? Darko Kocic? Io, signore, non riesco a dire se in città ha un ruolo rilevante o meno, io ripeto, quello che so è che comunque sicuramente non è una persona così da niente, perché... Eh, questo l'abbiamo capito. Insomma, organizzare incontri sicuramente deve essere una persona di un certo livello, ecco, non stiamo parlando dell'ottima rovato. Ho capito. Ma anche solo per permettersi la tenuta nella quale parliamo? Beh, certo, certo. Io, purtroppo, ripeto, signor Santo, se lei si è sempre tenuto fuori, sono sicuro che non potrò avere informazioni più dettagliate, che mi possono portare... Lei lo giuro, procuratore. No, no, non deve giurare, ma si figuri, signor Santo. Io non sono una persona qua che le sto dicendo che voglio, insomma, fare doppie giochi, cose a me non mi interessano, io voglio fare, voglio semplicemente giustizia per signor Ave. Eh, certo, è quello che stiamo provando a fare. Quindi io se la posso aiutare, se lei mi vuole fare qualche domanda più specifica, faccia pure. No, io vorrei un numero di telefono di questo dato. Un numero di telefono. Eh, signore, questo nella buonanema, insomma, la buonanema del signor Ave. Non ha recuperato, non le ha lasciato magari nel cassetto il telefono, o magari qualcuno che può avercelo, che magari con il signor Alve si interfacciava. Posso informarmi, posso informarmi su questo. Certo, per me sarebbe utile e importante. Gli darei un messaggio e gli farei capire che lo stiamo cercando. Eh, guarda, io... Io le garantisco, signor Santo, che ovviamente, da fuori da quella porta non uscirà nulla inerenti alla sua personalità. Ogni perché se effettivamente questa persona ha fatto sparire il signor Ave e viene a sapere che io sto, insomma, ho fatto il suo nome, penso che... Non lo so se mi va a finire nello stesso modo, mi capisca. Mi devo anche un po' controllare io. Perché le do la garanzia che fuori da quella porta lì è venuto qui solo per prendere un caffè. O meglio, per prendere un aperitivo, diciamo così, che poi si fraintende. Quindi, se lei, nel frattempo, ha altre informazioni utili da darmi, io sono a sua completa disposizione. Cercherò di fare il massimo con il giudice domani per avere, diciamo, un po' di morbidezza. Non scondo di pena, insomma, non la massima condanna. È giusto che debbono pagare i loro errori. Non è che dico che se ne devono andare a casa. Tutto quello che è possibile e mi auguro che anche lei, signor Coppola, lo faccia con noi. Assolutamente. Io se, insomma, da oggi... Quando sarà il processo? Domani. Domani alle 23. Alle 23. E io entro alle 23, insomma, cercherò di fare il possibile per migliorare la situazione dei ragazzi. Certo. I vantaggi sono molteplici. Una vendetta che andrebbe bene a tutti e due, sia a lei che a me. Perché, ripeto, anche il fatto che questo signor Cosic abbia rapito il sindaco con una persona onesta che lavora per questa città, questa cosa non l'ho mandata giù. Vendicare il suo fratello, aiutare i suoi nipoti. Insomma, ne usciremo tutti felici e contenti. Esatto, esatto. No, ma ripeto, procuratore, farò il possibile per procurarle questo contatto telefonico? Farò di tutto, farò di tutto. Ho fiducia in lei e io, tra l'altro, se dovesse averne bisogno, le garantisco protezione da parte delle forze dell'ordine. Ah, io questo l'ho apprezzato. E qualora volesse, mi auguro mai, ma qualora volesse, anche un cambio di identità. Grazie. Grazie. Grazie.